Gli eroi di Devil Pass. Questa è la cronaca di un'invasione. Non c'è altro modo in cui chiamare il vile ed immotivato assalto che in questa storia le genti navaco devono fronteggiare da parte della tribù degli Iutes. Sono venti di tempesta, quelli che spazzano le alte e selvagge cime dei monti della riserva. Sono presagi di morte, quelli che gli stregoni vedono nei segni inviati loro da Manitou. Il duo di mostri sacri, Bonelli, Ticci, mette in scena uno spettacolo come se ne sono visti pochi nella storia del fumetto. La notizia dell'attacco viene riportata tramite i segnali di fumo a messaggeri che raggiungono un incredulo aquila della notte, intento ad esplorare alcune grotte, ultimo rifugio di antichi conquistadores, insieme ai suoi inseparabili pard. Gli Iutes sono scesi sul sentiero di guerra. La trama ci svela già da subito i viechi motivi che hanno spinto luschi trafficanti di armi e whisky a scatenare un simile disastro che minaccia di costare un prezzo in vite umane talmente alto da non volerci neanche pensare. Ben più elevato del numero già non esiguo di vittime che le incursioni degli indiani ribelli, imbruttiti dall'alcol ed accecati dal miraggio di gloria e prede, hanno già lasciato sul terreno lungo il loro cammino, includendo ranch dati alle fiamme e perfino un villaggio ai confini della riserva completamente distrutto, il metallo giallo, l'oro, presente in abbondanza sulle montagne dei Navajo. La faccenda è maledettamente ingarbugliata e dannatamente pericolosa. Dopo aver dato disposizioni tramite le fumate parlanti ai guerrieri e agli abitanti dei villaggi non ancora colpiti che si trovano sulla strada del nemico, i due esperti uomini di legge iniziano ad indagare con i metodi che ben conosciamo e che, diciamolo, ci piacciono particolarmente quando messi in atto, senza farsi intimorire né fuorviare dalle facce di personaggi apparentemente e falsamente innocenti come Angioletti, ma che in realtà hanno l'anima nera come l'inferno. Con un'atmosfera da puro West, polverosa, cruda ed evocativa, viene presentato l'avanzare della vicenda su più fronti. Da un lato ci sono i guerrieri Navajo schierati al Devil Pass, abilmente coordinati da un intrepido piccolo falco e un Tiger Jack più prudente rispetto all'impulsività del giovane, sebbene altrettanto letale con il Winchester, quanto deciso nell'impartire ordini. I due Pard hanno il compito di rallentare ad ogni costo l'avanzata degli Iutes e non si faranno pregare nel rifilare agli indesiderati ospiti una sonora batosta, spalleggiati da valorosi ed obbedienti luogotenenti che nulla hanno da invidiare ai più ligi sergenti di cavalleria. Inseguimenti al galoppo nelle aride praterie, furiose sparatorie, ardimentose sortite, frecce incendiarie, trucchi, barricate di roccia e trappole mortali caratterizzeranno la parte di avventura che vede i protagonisti Kit e Tiger. Ma il ruolo di Aquila della Notte e Capelli d'Argento non è assolutamente di tutto riposo. Anche quei fulmini vestiti da Ranger dovranno mettere mano alle Colt nel susseguirsi dei vari momenti dell'inchiesta e si imbatteranno in disertori, scout indiani, commercianti viscidi come serpenti e affaristi senza scrupoli con due dita di pelo sullo stomaco. Sfruttando un aiuto insperato, per fortuna di persone oneste e allergiche ai soprusi e alla prepotenza ne sono rimaste ancora in giro, supporto che servirà a rendere meno complicato trovare il bandolo dell'intricata matassa, i nostri dovranno cercare di intercettare un nuovo carico di canne tonanti, vale a dire di carabine ultimo modello, spedite proprio per armare gli indiani che stanno dando l'assalto alla riserva. Ormai scoperti i colpevoli, si scatena una vera e propria corsa contro il tempo per colpire facendo più danni possibili e tagliare la testa dell'organizzazione criminosa che così tanti guai e lutti ha causato per pura e semplice avidità. Ancora una volta, l'ingegno si rivela l'arma vincente, più pericolosa di qualsiasi pistola e solamente l'infernale arguzia di Tex permetterà di imprimere una svolta decisiva all'esito dello scontro, tramite uno stratagemma degno di un abile stratega militare. Ciò non toglie che saranno innumerevoli le pallottole che vi fischieranno vicino alle orecchie e che sarà necessario schivare il piombo e ricambiare, come direbbe il buon Carson. Un ulteriore rinforzo alle già fin troppe folte schiere dei nemici aggraverà la situazione, inasprendo la lotta e rendendo la battaglia ancora più feroce. I selvaggi e spietati walpai, storici ed acerrimi nemici dei Navaco e di Aquila della Notte, non vedono l'ora di potersi finalmente vendicare dei numerosi affronti subiti proprio per mano del capo bianco dal cuore rosso. Ad avversari del genere non si può concedere quartiere. Non basta sconfiggerli sperandoli sopravvivere. Ad avversari che hanno la testa piena solamente di violenza e sete di sangue non si può offrire un ramoscello d'olivo sperando che diventino tutto ad un tratto mansueti agnellini e capiscano gli errori commessi. Bisogna inseguirli per una spietata necessità al fine di impartire loro una crudele lezione in modo da far capire chiaramente che la riserva Navaco è difesa e che quindi prendano a calci anche soltanto l'idea di riprovarci in futuro. Ma se da un lato si può in un certo senso comprendere la mentalità di un pelle rossa in cerca di una gloriosa battaglia contro un nemico forte e valoroso dall'altro a volte sembra perfino ingenuamente strano come intrallazzatori e farabutti di ogni genere non si renderanno conto del fatto che per quanto possano credersi al sicuro o più furbi in realtà sia solamente stupido cercare di realizzare affari sporchi se c'è di mezzo Tex Wheeler tanto più se si tocca la sua gente. Siete stanchi di vivere, hombres? Non si tratta solo di giocare col fuoco ma proprio di accendere una torcia in un deposito di dinamite la cosa non può assolutamente finire bene. Eppure, dietro ai loro malefici ed odiosi ghigni i cattivi di turno non smettono di sfregarsi le mani prospettando ingenti guadagni sulle spalle delle vite di molti innocenti. Pessima idea. Una nota a parte merita il capo della masnada di forsennati che attaccano le nostre terre cane giallo. Dalle azioni del sac miute non traspare lo stesso grado di pavidità o di viscida balordaggine dei suoi fornitori bianchi anche se restiamo comunque increduli nel vederlo così sicuro di poter strappare lo scalpo ad aquila della notte. Dopo la quinta volta che glielo sentiamo ripetere a tutti noi inevitabilmente non può non sfuggire di bocca un commento di disgusto misto ad un certo grado di compassione. Disgusto poiché le motivazioni che lo spingono sono quanto di più lontano dalla nobiltà d'animo ci possa essere e compassione perché è andato a cercarsi un avversario decisamente non alla sua portata. Eppure, come molti texiani ben sanno la storia di cane giallo non si conclude con la fine del conflitto. Il suo cammino tornerà ad intrecciare la pista di tex e compagni molto tempo dopo le vicende narrate in questo volume quando ci eravamo già dimenticati di lui per andare inevitabilmente stavolta definitivamente incontro al suo tragico destino senza aver imparato nulla dai suoi errori ed anzi dimostrando ancora una volta la sua indole ignobile vile e sanguinaria. La drammaticità del racconto viene stemperata dai gustosi e dimancabili fraterni battibecchi tra tex e Carson e il grande Bonelli non si lascia sfuggire l'occasione di inserire alcune divertenti battute qua e là per alleggerire l'atmosfera ma neanche di utilizzare un linguaggio duro e da duri un gergo quasi metallico come la canna di un Winchester dove necessario come in certe famose epiche scene nelle quali pare anche a noi di percepire la brezza che smuove la sabbia del deserto creando piccoli e silenziosi mulinelli. Questo classico film in formato fumetto o se preferite questo fumetto che potrebbe benissimo essere trasformato in un film resta impresso nella memoria come il marchio arroventato sul manto di un puro sangue. Se sarete sfuggiti all'inseguimento degli Walpai se sarete usciti senza buchi nella carcassa dall'assedio al Devil Pass se avrete interpretato correttamente i segnali di fumo che si innalzavano nel cielo da una mesa lontana allora ci sarete anche voi tra le centinaia di spettatori che attenderanno trepidanti l'esito del duello finale chi uscirà vincitore dal cerchio del giudizio dimostrerà non solo di essere il più valoroso ma soprattutto di avere il favore del grande spirito. Non abbassate la guardia non cedete alla paura né tantomeno all'odio e mantenete i nervi saldi per un valoroso o per chi si crede tale ha importanza solo innalzare al cielo lo scalpo del nemico ma a chi è un esempio da seguire non interessa solamente sconfiggere l'avversario quanto piuttosto vincere agendo sempre secondo il proprio codice d'onore il combattimento dovrà essere all'ultimo sangue ma ricordatevi che per un guerriero sconfitto ci possono essere vite peggiori della morte.